Ciao ragazzi! La bambola è un oggetto inanimato, può essere bellissima, può essere preziosa, ma non avrà mai una volontà propria. Il modo in cui si veste, il modo in cui si muove, è deciso dagli altri. Se la bambola avesse una coscienza, potrebbe essere felice? Ecco quindi Venus Angelic, la youtuber costretta ad essere una bambola. Venus Isabel Palermo nacque in Svizzera l'8 febbraio del 1997. Dopo essersi trasferita con la madre Margaret Palermo a Londra, Venus decise di aprire un canale YouTube, con il quale a soli 13 anni iniziò a farsi notare con una serie di tutorial di bellezza. Tuttavia, fin dalle prime clip, Venus mostrò al pubblico uno stile originale, che in occidente nessuno aveva ancora adottato. Il suo modo di vestire alla Sweet Lolita, così viene definita questa moda in Giappone, unito a un certo tipo di trucco, la faceva sembrare una bambola. Quella fu la chiave del successo. Pian piano, Venus adottò un ruolo, quello di prima Living Doll, bambola vivente di YouTube. Ed è quasi impossibile non farsi notare sulla piattaforma quando sei originale e riesci a proporre qualcosa di diverso dagli altri. In effetti il video che la portò alla fama, How to look like a doll, come avere l'apparenza di una bambola, caricato da Venus nel 2012, ottenne in poco tempo milioni di visualizzazioni. Ma non tutto è oro ciò che luccica. Effettivamente, i suoi inizi non furono per niente facili. Il problema più grande in questa fase era rappresentato dal fatto che lo stile di Venus appariva ispirato a una sottocultura giapponese, definita Lolita, come dicevo, che in Oriente poteva funzionare. Ma in Occidente ricevette subito aspre critiche. Il Daily Mail la definì bizzarra e pericolosa. In effetti avrebbe potuto attirare l'attenzione di malintenzionati nei confronti di giovani ragazze su internet. E in un'intervista di Daybreak, la presentatrice Ellen Fospero disse che si sarebbe sentita inorridita se sua figlia avesse deciso di vestirsi in quel modo. Era una lotta che doveva essere vinta in squadra. La madre di Venus, Margaret, mise subito le cose in chiaro. Spiegò che i desideri di sua figlia dovevano essere rispettati e disse di essere sempre al suo fianco, soprattutto per proteggerla da situazioni in cui persone di una certa età avrebbero potuto approfittarsi di lei. Di fronte alle telecamere, madre e figlia sembravano davvero un team affiatato. La coppia perfetta. Ma le cose sarebbero cambiate in modo drastico. Gli anni passano e i desideri di una persona cambiano. Gli interessi che si hanno quando si è poco più che bambini possono risultare molto diversi da quelli che si provano durante l'adolescenza o l'età adulta. Venus Angelic cresceva, il suo personaggio no. E questo era già un problema. Ma c'era un pericolo ancora più grande ad attenderla dietro l'angolo. La concorrenza. Ebbene sì, Venus aveva dato il via a un fenomeno che avrebbe fatto presa su YouTube e sarebbe stato adottato da altri creator come lei. E sono proprio alcune di questi creator che iniziarono a raccontare di strane esperienze vissute a contatto con Venus Angelic e sua madre Margaret. La prima caderno vittima fu Kimono, una YouTuber che aveva adottato uno stile molto simile a quello di Venus e che le lasciò un commento sotto uno dei suoi video per chiedergli un'opinione sul suo lavoro. E' normale voler ottenere l'opinione di un personaggio con più esperienza. Eppure il suo commento venne cancellato e lei bannata dal suo canale per sempre. Quando poi le due si incontrarono in una fiera dedicata alla cultura giapponese, alla richiesta di Kimono di potersi fare una foto con Venus, la madre la guardò male e le due se ne andarono ignorando la sua richiesta, non prima di lanciargli un'occhiata carica di odio. Erano sicuramente comportamenti strani, ma lo sarebbero diventati ancora di più con il passare del tempo. Per esempio, quando Kimono raccontò alla sua piccola community in merito alla delusione a seguito dell'incontro con la sua YouTuber preferita. In quell'occasione, sulla pagina della madre di Venus, Margaret Palermo Official, comparve un post in cui Kimono veniva definita una bugiarda, una stalker, una ragazza che si stava approfittando della fama di sua figlia per emergere. Che dove la invitava a trovarsi un lavoro, a crescere e a smettere di vivere a spese degli altri. Poi fu la volta di Shio, un'altra YouTuber amante dello stile di Venus. In un periodo in cui Venus riceveva aspre critiche per il suo modo di vestire, sempre più bizzarro, Shio pubblicò un video sul suo canale per difendere la sua beniamina e Venus la ringraziò ripubblicandolo su Twitter. Ma poco tempo dopo, quello stesso video venne segnalato e rimosso da YouTube. E non ci vuole molto per capire che la denuncia era partita proprio da Venus. Perché? Non aveva senso logico. Shio lasciò perdere. Pensò che il video potesse aver imbarazzato in qualche modo Venus. Le due si fecero amiche. Quando finalmente Venus la invitò nella sua città per conoscersi di persona, un paio di giorni prima della data programmata per l'incontro, l'appuntamento venne cancellato e Shio fu bloccata definitivamente dal canale della sua beniamina. C'era decisamente qualcosa che non andava. Se ciò non bastasse, nei mesi seguenti Shio iniziò ad essere vittima di un vero e proprio bullying su reti sociali. Decine di account fake parlarono male di lei. Tutti account con nomi simili e senza follower. Ossia create doc per l'occasione. Il pubblico iniziò a domandarsi se non fosse proprio Venus a scrivere quelle cattiverie. E sua madre passò al contrattacco. Sulle sue reti sociali cercò di cambiare le carte in tavola. Dicendo che era Shio a fare bullying a Venus. La chiamò bugiarda, approfittatrice. Poi cercò in tutti i modi di mostrare come la concorrenza cercasse di sminuire il gran lavoro fatto della figlia per emergere. Le altre sarebbero state solo delle brutte copie. Ma la realtà era un'altra. La concorrenza faceva paura e stava diventando sempre più numerosa e sempre più forte. L'immagine della dolce Venus iniziò a venir meno. Di fronte allo schermo era ancora un'adorabile bambola. Ma dietro le quinte erano molti a pensare che fosse una presuntuosa, una persona cattiva e perpotente. Quello che la gente non capiva era come sua madre potesse sopportarla e aiutarla a perpetrare quell'odio sulle reti sociali. Era il 2015. Venus aveva 19 anni e continuava a proporre i suoi video nei panni della Living Doll. Quando conobbe un ragazzo giapponese, Manaki. Anche per lei era giunto il momento di innamorarsi e il suo ragazzo iniziò a far parte del suo lavoro. Apparve in numerosi video della youtuber, per poi scomparire da un momento all'altro. Quando il pubblico iniziò a domandarsi dove fosse finito, Venus raccontò sulle sue pagine social che Manaki era una cattiva influenza, che beveva troppo, che era un fanullone, insomma, che non era affatto per lei e che aveva interrotto la relazione. Allo stesso tempo, la madre Margaret pubblicò sulle sue reti sociali dei post incredibilmente fuori luogo su Manaki, criticandolo ed accusandolo di essersi solo approfittato della figlia. Ma quando alcune settimane dopo, sul profilo Facebook di Venus, la ragazza ammise che il tutto era stata una bugia e che la sua relazione con Manaki non era finita, ma che doveva comunque mantenere la segreta, scoppiò lo scandalo. E la verità venne finalmente portata alla luce. Di fronte a continui post che si contraddicevano tra loro, post dove Manaki lo si vedeva felice a fianco di Venus e altri post dove lo stesso veniva criticato e ripinto come uno dei peggiori ragazzi che avesse mai incontrato, si capì finalmente che la persona che scriveva quei post non era sempre la stessa. La teoria venne confermata da quest'altro post. Volevo solo postare alcune foto di Manaki in visita qui a Seul, perché in quel periodo Venus si era trasferita con la madre per lì. Ma mia madre continua a cancellarle. Dice altresì che Manaki mi sta facendo il lavaggio del cervello, ma non credo che sia così. Questo post fu sufficiente per capire tutta la situazione. Chi deteneva il controllo? Era Margaret. Era lei che aveva scritto la maggior parte dei post in cui Venus criticava altri youtuber, dove parlava male di Manaki, dove mostrava il suo lato peggiore. Ecco il perché di quel suo strano comportamento e delle incongruenze. Un semplice confronto dei post scritti da Margaret sui suoi account e quelli scritti da Venus fornì la prova finale. Molti degli errori in inglese fatti da Margaret apparivano nei post scritti sui social della figlia. Era Margaret stessa a scriverli. Era lei che deteneva il controllo di quei profili. A quel punto la situazione peggiorò. Le reti social di Margaret iniziarono a riempirsi di post criticando sua figlia, dicendo che le accuse contro di lei facevano solo parte di un complotto di Venus e Malachi per screditarla. Ma ormai era troppo tardi. Tutti avevano capito che, soprattutto negli ultimi anni, Venus aveva perso il controllo sulla sua stessa vita, che era diventata succube nel volere di sua madre che ne controllava ogni piccola mossa. E nonostante Venus fosse stufa di essere la living doe che l'aveva resa famosa, Margaret l'aveva costretta a continuare. L'aveva in poche parole obbligata ad essere una bambola. Il fenomeno della bambola vivente continua sul web, ma Venus ha finalmente deciso di prendere un'altra strada. È andata a vivere in Giappone con Malachi. Continua a pubblicare regolarmente video sul suo canale YouTube, ma il suo stile ora sembra più personale e autentico. Tra l'altro, una gran parte dei video più polemici sul suo canale sono stati rimossi da lei stessa. In parte, è ancora la living doe di cui tutti parlavano all'inizio, ma senza il controllo del genitore, che la stava davvero portando a perdere totalmente la sua identità. Manipolata a piacimento da una madre che voleva rivivere attraverso di lei il suo sogno adolescenziale, quello di poter raggiungere la fama, lontana dai riflettori quindi Venus sembra aver guadagnato la sua identità. Ma in tutto ciò, ora che è rimasta sola e senza il suo giocattolo, che fine farà la madre della bambola vivente più famosa del mondo. Voi? Cosa ne pensate? Ditemi la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.